cercherò di lavorare per il bene di tutti noi siamo qui in questo studio è già sfraganato pensa cosa succede se continui questo è un po' matto sempre meglio delle cazzate che di giudicare la solidarietà, la partecipazione va insisto non ci saranno più bollette del gas aggiungiamo il dentista gratuito per gli anziani e aggiungo bolleremo anche quella della luce un milione di alberi imbianchiamo la casa di tutti, gratis meglio che ti ferma, ritirati, lavati i peli e va a cuocere rappresento l'esperienza, la saggezza che tococchione interventi sanitari toglieremo la tassa sulla spazzatura e nostre, mamme il bollo dell'auto mille euro al mese per 13 mensalità duemila signori, porteremo barche di pilo anche navi cariche di pilo insommamente fortissimamente pilo perfetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti